Ancora botte, caos e violenza nelle corsie dei pronto soccorso di Napoli e provincia. Altri due episodi in poche ore. Ad Acerra, la clinica Villa dei Fiori, tra le poche private accreditate e la rete dell'emergenza, e all'ospedale di Fratta Maggiore. Episodi avvenuti nelle stesse ore e con le stesse modalità, avverte l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che conta già quattro casi dall'inizio dell'anno, a Napoli Centro e Napoli Nord, a cui vanno aggiunti quelli di Castellammare. Nel primo caso, un'intera famiglia di Casal Nuovo ha forzato la porta del pronto soccorso per accedere ai locali senza attendere e prima aggredisce verbalmente i sanitari, poi fisicamente la guardia giurata che soccorre. L'intervento della polizia di Acerra evita il peggio. Con modalità del tutto simili, si è consumato il secondo episodio a Fratta Maggiore. Intanto, la procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta sulla barbara aggressione all'infermiera dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabbia, mentre il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha convocato per martedì 9 gennaio una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presso il Palazzo di Governo, proprio per affrontare il tema dei recenti e nuovi grandissimi episodi di violenza ai danni al personale sanitario. Chiamati al tavolo Regione, Manager 118, i rappresentanti degli ordini e le forze di polizia. I drappelli di polizia sono attivi oggi a Napoli solo al Pellegrini e all'ospedale del mare, ma solo di notte, mentre il Cardarelli fa conto del drappello dell'Arenella poco distante. Camici bianchi nel mirino, dunque, vittime di pugni, schiaffi, insulti e minacce sul posto di lavoro senza colpe subite per una fila troppo lunga e per lo sfogo del dolore di un decesso. I numeri sono impressionanti. Nel 2023 un'aggressione ogni tre giorni, ma il 2024 è iniziato già nel peggiore dei modi.